Nella trasmissione Linea Comune, programma di approfondimento politico di Sud TV condotto da Maria Rosaria Sica, la sindaca Cecilia Francese ha svelato il nome del nuovo assessore dell'ambiente, si tratta della dottoressa Carolina Vicinanza. Anche se non conferma il secondo assessore, la maggioranza verbe giusto sul nome di Lucio Pastorino, titolare di una rinomata pizzeria a Salitto di Olevano. Carolina la conosco personalmente, è un'ottima professionista, anche qui all'interno del palazzo ha trovato molta soddisfazione. Carolina mi serviva da staccare l'assessorato all'ambiente dall'assessorato all'urbanistica perché erano due deleghe molto importanti che gestiva la sola assessore vecchio e quindi Carolina ha un master in Ingegneria Ambientale e Sanitaria per cui praticamente mi ha convinto come professionista per dare questa cosa. Poi è chiaro che io vorrei creare una squadra, non è che le deleghe devono essere rigide, molte deleghe si incrociano spesso. Lui per esempio parlava di rapporti amministrativi con Alba, Carolina ovviamente avrà per quanto riguarda l'ambiente lo stesso rapporti con Alba e lo stesso la Catarozzo per quanto riguarda la parte bilancio rapporti con Alba, quindi si deve quasi creare una task force, un gruppo che affronti solo il discorso Alba.